Buongiorno a tutti, mi sono appena svegliato, lei dorme ancora. Stiamo prendendo il caffè. Sto evacuando, mi faccio una doccia. Secondo voi mi stanno meglio questi o questi. Sto mangiando, link in bio per le gallette bio. E mi raccomando quando mangiate ricordatevi di bere tanta acqua. Secondo e penultimo caffè della giornata, come sapete ne prendo sempre tre. Ovviamente con una bustina di zucchero di canna. Sto pensando di evacuare. Che vuol dire che sto troppo in bagno, scusami? Allora, notizia shock, da oggi prenderò soltanto due caffè perché la notte purtroppo fatica ad addormentarmi. Per fortuna che ho queste. Vedete? C'è anche scritto dormi meglio. Sto evacuando. Un attimo! Ci siamo appena lasciati. Abbiamo passato Dei bellissimi momenti insieme. Li avete visti? Tutti. Quindi... Ma perché vi siete lasciati? Ma secondo te, lo vengo a dire a voi, eh? Questa si chiama privacy. Vora da sei sei! Toa chiama privacy! Cosa cazare! Vora da sei... Grazie a tutti